Mi chiamo Matteo Merzagora, lavoro a Parigi, in un'associazione che si chiama TRAS, con un centro della scienza che si chiama Espaces de Sciences Piergilles de Genno. La cosa che a noi piace capire è che un centro della scienza è sì un luogo in cui i ricercatori cercano di farsi capire e di far capire al pubblico che cosa si sta muovendo nella ricerca, ma sono anche un luogo in cui cerchiamo di aiutare i ricercatori e la ricerca a capire chi è il pubblico, che cos'è la società in cui la scienza si muove e evolve, quali sono le domande, i dubbi, anche le paure che il pubblico ha rispetto alla scienza. I ricercatori hanno bisogno di luoghi, di incontro col pubblico in cui sono loro a prendere, sono loro a capire che cos'è la società, che è il pubblico e che cosa vuole da loro.